Via Libera del Parlamento Europeo all'accordo commerciale con i territori palestinesi. I prodotti della striscia di Gaza e della Cisordania potranno essere esportati nell'Unione Europea senza dazi doganali e senza, al momento, limiti di quote. Le merci palestinesi saranno esportate in Europa direttamente senza dover passare per il controllo delle dogane israeliane. L'accordo, approvato a larga maggioranza dagli eurodeputati, entrerà in vigore già dall'anno prossimo. E' una grande opportunità per i palestinesi e per lo sviluppo della regione, spiega la relatrice, la deputata greca Maria Eleni Coppa. E' importante che questo accordo sia stato approvato quando si discute alle Nazioni Unite sullo status dei territori palestinesi. Noi come Unione Europea dobbiamo dire ai palestinesi che siamo al loro fianco e che hanno il diritto di avere uno Stato per una soluzione fattibile in Medio Oriente. L'accordo riguarda prodotti ittici ed agricoli, ad eccezione di frutta e verdura, per ragioni protezionistiche verso il mercato europeo. La bilancia commerciale è in favore dell'Unione Europea. Nel 2009 sono state esportate merci palestinesi per 6 milioni di euro, mentre l'autorità palestinese ha importato dall'Europa macchinari e prodotti chimici per oltre 50 milioni di euro.